Nome? Federica. Cognome? Biasi. Che lavoro fai? Product designer e art director. Un lavoro divertentissimo. Dove sei nata? Saronno. La tua città d'adozione? Potrei dire Milano ma la mia testa è sempre al nord, Copenaghen, Amsterdam. Il rapporto che hai con Milano? Bene e male. Adoro Milano, odio Milano. In che senso? Nel senso che secondo me ha delle potenzialità per crescere come una capitale europea ma la nostra italianità a volte si europeizza un po' troppo poco quindi dobbiamo riuscire ad aprirci molto di più. Quali sono i tuoi luoghi preferiti a Milano? Potrei dirne mille di luoghi preferiti. Scegline tre. Una è la Pinacoteca di Brera perché mi fa sentire in un luogo assolutamente senza tempo. L'altro è il Parco Sempione, banale ma mi piace tantissimo passeggiare soprattutto durante la settimana. E il terzo luogo è il mio quartiere Lambrate perché mi fa sentire ancora come se fossi in un piccolo in un piccolo paese e mi fa sentire più protetta che la grande città. Parliamo del tuo lavoro. La parola d'ordine nel tuo lavoro quale potrebbe essere? Equilibrio, direi equilibrio. È un equilibrio quando si disegna, è un equilibrio quando ci si rapporta tra aziende e tra le persone che lavorano con te in uno studio. Se è possibile saperlo da dove viene principalmente la tua ispirazione? È sempre una domanda difficile da dove viene l'ispirazione. Può essere, io sono una persona molto emotiva, emozionale, nel senso che cerco di fare caso a qualsiasi dettaglio intorno a me e cerco di trovare bellezza ovunque. Diciamo che il mio approccio progettuale non è mai cambiato drasticamente ma è evoluto nel tempo. È evoluto perché sono evoluta io come persone. Edizione limitata o grande serie? Entrambi. Se me l'aveste chiesto fino a due anni fa avrei detto grandi serie ma in questo momento storico ho deciso che voglio sperimentare l'edizione limitata. Reale o virtuale? Reale. Il rapporto con le aziende? Umano. Cerco sempre di partire da un punto di vista umano. Ho un bellissimo rapporto con le aziende con cui lavoro perché prima che un rapporto di lavoro per me deve essere un rapporto reale e vero. Veniamo all'imminente Milano Design Week. Che cosa ne pensi? Attesissima Milano Design Week da tre anni che insomma siamo assenti da questa Design Week quindi è attesissima. C'è tantissima energia intorno a Milano, c'è tantissima energia intorno a questo evento. Quello che penso davvero è che secondo me sarà una buonissima ripartenza. Non so dire se torneremo agli anni d'oro del Salone del Mobile ma sicuramente vedo tanta rinascita e una voglia estrema di mettersi in gioco da parte di tutti all'ultimo secondo a volte. Ci puoi raccontare che cosa presenterai? Presenterò una serie di prodotti con aziende con cui ho delle collaborazioni continuative come Lema, con Frigerio, Gallotte Radice e molte altre. Ma la cosa più importante che faccio quest'anno che è diversa da quello che faccio solitamente è un'installazione per il brand Gervasoni con cui presento questo nuovo divano Summit e questa sarà un'installazione, un sentiero diciamo all'interno di tutti i prodotti di Gervasoni è un po' un ponte tra quello che è stato Gervasoni una volta e quello che è adesso. Quali altri progetti presenterai alla Milano Design Week? A parte appunto una serie di prodotti che non vi svellerò ancora, uno in particolare molto interessante ed è una serie di tavolini che stiamo sviluppando con Gallotti Radice che raccontano e parlano di riciclo vero e reale, quindi stiamo andando a ricreare dei tavolini in vetro riciclato ed è per me fondamentale perché segna davvero quello che secondo me è il cambiamento del design attuale, cioè il materiale. Possiamo dire che la sostenibilità e consapevolezza ormai è alla base? La sostenibilità è consapevolezza ma non è sempre data per scontata. Che cosa significa essere art director? Essere art director significa essere un mediatore, essere un mediatore tra quello che sei tu, tra quello che è l'azienda e tra la comunicazione. C'è libertà nel progettare un'installazione? C'è libertà, c'è libertà, c'è molta libertà, dipende dalle aziende ovviamente, dipende dai budget altrimenti non direi la verità ma all'interno di questi di questi limiti c'è assolutamente libertà. Il tuo rapporto con l'artigianato? Amo l'artigianato, ho un amore assoluto per l'artigianato e cerco sempre di portare nei progetti l'artigianato anche da un punto di vista industriale. Quanto entra la tecnologia nel tuo lavoro? La tecnologia entra tutti i giorni, nel momento in cui dobbiamo progettare con il computer, progettare con il cellulare, parlarci al telefono. Devo dire che io non sono una persona molto tecnologica anzi, però quindi se mi si parla di metaverso dico... La decorazione nel design, il decor proprio. A me il decoro piace molto ma cerco di utilizzarlo solo ed unicamente quando è un giustificativo. Il giustificativo in un prodotto può anche essere la bellezza. Ovviamente parliamo sempre di design. La contaminazione con? Fotografia, fotografia sì. La contaminazione con la fotografia, la vera fotografia, l'arte fotografica per me è qualcosa che deve assolutamente tornare. E poi anche la cucina che è una mia grande passione, quindi mi piacerebbe che questi mondi si contaminassero tantissimo. Esiste ancora il savoir faire italiano? Assolutamente. Raccontaci il progetto che tu senti più tuo. Non saprei il progetto che sento più mio, ma forse il primo, nel senso che la prima poltrona che ho fatto è stata presentata a Maison Objet ormai sei anni fa, sei, sette anni fa, ed era Sophie, il poltrona ai divani Sophie. E due perché è stato un inizio di carriera, è stato un bellissimo modo di entrare in questo mondo. E al contrario, un progetto su cui eri convinta ma che non ha avuto successo. C'è una sedia, una sedia che ho qui, ho un prototipo bellissimo qua in studio, ma non riesco a trovare una giusta casa. Stai lavorando ad altri progetti? Stiamo lavorando sempre a tantissimi progetti. Lavoriamo continuativamente nell'ambito del tableware con aziende straniere, un'azienda sudamericana, un'azienda australiana. Stiamo lavorando ancora con aziende svizzere, sto lavorando con qualche azienda nordica. Per quanto riguarda i prodotti, usciranno dei tavoli, degli accessori, tante cose. In momenti diversi, ma poi a me piace lavorare su scale diverse, quindi sicuramente piastrelle, accessaie, insomma, ci sono sempre novità tutto l'anno. Il futuro del design, tre parole. Tecnologia, materiali, realtà.